Ben tornati cari affezionati ascoltatori di Radio Puginion Air. Ecco che abbiamo l'occasione oggi per parlare di nuovo di ultimo perché c'è una sorpresa. Parleremo del nuovo album Altrove e anticiperemo il suo straordinario tour negli stadi 2024. Dunque preparatevi per un viaggio attraverso le emozioni e le storie raccontate da una delle voci più apprezzate e delle penne più apprezzate della musica italiana. Dunque ultimo ha finalmente annunciato il suo sesto album di inediti dal titolo Altrove che vedrà la luce venerdì 17 maggio. Questo disco rappresenta un vero e proprio racconto in musica composto da otto istantanee che canturano diverse sfaccettature dell'animo umano. Ogni brano è come un capitolo di un libro, un viaggio nella mente e nel cuore di Ultimo. Con oltre 66 dischi di platino e 21 dischi d'oro, Ultimo ha già conquistato il cuore di milioni di fan grazie alla sua autenticità e alla capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso la sua musica. Altrove è un'opera che promette di coinvolgere e commuovere il pubblico con testi molto intensi e melodie avvolgenti. La tracklist di Altrove include brani significativi come Lunedì, Quando saremo vecchi, Neve al sole, Quei due innamorati, Amore di strada, Occhi lucidi e Diluvio universale. Quest'ultimo in collaborazione con Mezzo sangue. Ogni canzone è stata concepita per raccontare una storia unica, permettendo ai fan di immergersi completamente nell'altrove personale di Ultimo. Ma vedremo con quale singolo, naturalmente nei prossimi giorni, Ultimo sicuramente anticiperà questo album. Per cui ci dovremo aggiornare, magari tra poche ore o tra pochi giorni, per un nuovo singolo. Ma le sorprese non finiscono qui. Ultimo ha anche annunciato il tour Ultimo Stadi 2024. Un evento imperdibile che porterà la sua musica in alcune delle arene più iconiche d'Italia. Questo tour è un momento di celebrazione per i vent'anni di carriera dell'artista e offrirà ai fan un'esperienza indimenticabile. Ecco le date del tour Ultimo Stadi 2024. Partiamo dalla data zero a Trieste il 2 giugno 2024 e poi l'8 giugno a Napoli e il 9 giugno a Napoli. Stadio Diego Armando Maradona, soltanto che l'8 giugno è sold out, mentre il 9 giugno Napoli, Stadio Diego Armando Maradona, trovate ancora i biglietti. E poi c'è il 15 e il 16 giugno, Stadio Olimpico a Torino, il 15 e il 16 giugno, ed è sold out la data per ora del 15 giugno. Dunque il 16 giugno trovate i biglietti. Invece a Roma il 22 e 23 giugno 2024, Stadio Olimpico sold out, entrambe le date, ma ce n'è un'altra il 24 giugno. Sempre Roma, Stadio Olimpico, dove trovate ancora i biglietti, così come li trovate per Messina. Il 28 giugno, Stadio San Filippo. Per concludere, almeno queste le date che abbiamo al momento, vedremo poi se ne arriveranno altre, sicuramente saremo qui per aggiornarvi. Quindi, dicevo, ultima data, per ora il 6 luglio a Padova, Stadio Euganeo, già però sold out. I biglietti per il tour sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. Allora, ricapitoliamo, sono ancora libere, dunque ci sono ancora biglietti per la data del 9 giugno a Napoli, Stadio Diego Armando Maradona, per la data del 15 giugno Torino, Stadio Olimpico, 24 giugno Roma, Stadio Olimpico e poi il 28 giugno a Messina, Stadio San Filippo. Questo tour rappresenta un'opportunità unica per vivere la musica di ultimo in uno scenario straordinario, celebrando il suo talento e il suo impatto sulla scena musicale italiana in un vero e proprio stadio. Dunque, emozioni gigantesche quelle che si possono vivere negli stadi ascoltando i nostri cantanti preferiti. Rimanete sintonizzati su Radio Puggino NER per ulteriori approfondimenti e scoprire altre novità sulla musica e sull'intrattenimento. Continuate a seguire il nostro speciale su Ultimo e il suo nuovo album Altrove e gli aggiornamenti sulle date del suo tour. Grazie per averci accompagnato in questo emozionante viaggio attraverso le melodie e le storie di Ultimo e il suo album Altrove. E non perdete le prossime novità e gli aggiornamenti sul tour Ultimo Stadi 2024. Vi aspettiamo alla prossima puntata di Radio Puggino NER.